Negli eventi della settimana a cui non andrebbe non c'era l'evento di cui parleremo adesso ma non starei troppo tranquillo se fossi Emilio Sestagalli Buongiorno Emilio Buongiorno a tutti E allora abbiamo qui il direttore della festa patronale di Cisano Boscone di cui Crystal Radio è anche fieramente media partner siamo ben contenti tutti gli anni di parlare di questa festa perché in realtà posso dire che festa ormai gli sta anche stretto festa ha questo happening, meeting, evento è una cosa dal 6 al 22 settembre cioè siamo proprio nel mezzo adesso Certo, certo sono realmente due settimane che poi sono state allargate a tre settimane per far sì che diciamo così tutte le realtà di Cisano Boscone tutte le parrocchie di Cisano Boscone possano partecipare a diverso modo alla festa patronale è un modo di coinvolgere veramente tutto il paese è una festa appunto che diciamo che è lunghissima piena di contenuti soprattutto e soprattutto a differenza e qui tiro le orecchie alle altre feste che magari vanno un po' lunghe non è solo una festa di weekend no no avete messo tantissimi appuntamenti interessantissimi che sono anche molto seguiti sì abbiamo una scelta diciamo io sono dentro la festa da quando appunto portavo i pantaloni corti quindi siamo alla 42esima edizione 42esima fate voi i conti togliendo due anni del covid sarebbero state 44 dal 2017 mi è stato chiesto sia dall'amministrazione comunale e sia dal parroco di dirigere questa festa e abbiamo fatto un come dire un esperimento abbiamo provato a inserire oltre ai momenti ludici di festa del weekend dove la gente esce quindi a ballare ascoltare un concerto musica classica musica moderna un po' di tutto abbiamo inserito nella prima parte del weekend quindi lunedì martedì mercoledì e giovedì degli incontri ogni anno quando partiamo a febbraio a ragionare diciamo ma come faremo a tenere il livello della festa precedente l'anno scorso per esempio abbiamo avuto a noi Mario Calabresi quindi personaggio ha presentato il suo ultimo libro quindi negli anni precedenti c'era Don Burgio l'anno scorso proprio a parlare delle tematiche voi vi fate questa domanda ma poi la risposta ce la facciamo perché insomma senza voler a quell'anno prima che sono comunque di alto livello l'anno dopo rimanete sempre di alto livello ad esempio pochi giorni fa chi c'era? è venuto da noi Carlo Cottarelli a presentare il suo ultimo libro dentro palazzo quindi Carlo Cottarelli nel 2018 quasi presidente del consiglio dopo diciamo così la crisi elettiva del 2018 che non si riusciva a dipanare e quindi è venuto a raccontarci un po' tutte queste vicende politiche poi ieri sera ospiti illustri ieri sera giusto? ieri sera abbiamo presentato la mostra ogni anno noi nella festa patronale portiamo una mostra importante quest'anno portiamo una mostra che si intitola Subtutela Dei che è la mostra di Rosario Olivatino il magistrato ucciso dalla mafia e quello che veniva definito il giudice ragazzino il giudice ragazzino sì ieri sera se non ho capito o deve ancora venire no deve venire no ieri sera giusto ieri sera ieri sera c'era anche l'arcivescovo di Milano l'arcivescovo di Milano che possiamo dire l'afficionados della festa Mario Del Pini è un caro amico del nostro parco quindi abbiamo la fortuna di avere un canale diretto ogni tanto lui è sempre disponibile a venirci a trovare cosa vuol dire poter fare e dover dirigere una festa del genere in una città comunque comincia a essere insomma Ciano Moscone quanti abitanti sono? 25.000 25.000 abitanti quindi ognuno con la sua testa ognuno con le sue richieste tutti quanti con i loro gusti no quella roba non mi piace vorrei quell'altra però l'anno scorso c'era quelli che quest'anno non c'è ogni anno è così non deve essere niente facile come fate a costruire questa bellissima iniziativa ma abbiamo visto negli ultimi anni che questo format cioè porre delle serate per esempio nei weekend che possano contentare tutti per esempio questa sera avremo il cabaret di Zelli ci sarà Max Pisu ci sarà Laura Antonelli ci saranno proprio dei cabarettisti diciamo così televisivi domani sera abbiamo un format per le famiglie abbiamo le principesse Disney quindi bambini e famiglie in piazza quindi una serata dedicata a loro domenica sera ci sarà un concerto per i ragazzi quindi un format che possa contentare tutti i palati no visto che è una cosa bellissima sabato la caccia al tesoro ok sì no quelle roba lì è bellissima all'interno della festa patronale ci sono c'è proprio sul nostro sito una pagina intera dedicata a tutte le manifestazioni per i bambini l'altro giorno abbiamo fatto lo spettacolo d'apertura per i bambini c'erano 300 bambini con famiglie su uno spettacolo di burattini quindi per tutte le fasce di età chiaro chiaro bene allora senti io ti chiedo di rimanere ancora qui con noi perché continuiamo a parlare appunto di questa festa adesso ci ascoltiamo un po' di musica ma poi torniamo perché voglio capire cosa avrete nei prossimi weekend cosa avete preparato anche perché c'è di tutto spiegaci un po' com'è strutturata quindi immagino che insomma prepara tutto lì che tanto so che sei tutto a memoria e poi ci risentiamo fra pochissimo dopo aver ascoltato una Barbie Girl insieme agli Acqua erano gli Acqua con Barbie Girl so che avete ballato so che l'avete fatto non fatelo alla guida vi prego però so che se siete sul tram potete farlo tranquillamente anzi potete usare anche i pali della metro se volete per ballare meglio anzi mi fate solo contento mi raccomando non fatelo mentre guidate e allora siamo ancora qui con Emilio Sestagalli direttore della festa patronale di Cerno Boscone stavamo dicendo appunto una festa che non vive solo di weekend non vive solo di bancarelle che ci sono comunque giusto io continuo a avere in testa tutte le voci di tutti quelli di tutto l'anno che ti vedono in giro dicono però direttore il prossimo anno mettiamo meno bancarelle due metri dopo quello direttore il prossimo anno però un po' più di bancarelle è così immagino diciamo che non si riesce mai a contentare tutti però insomma i risultati da ora poi parlano chiaro sempre le serate piene tanta gente per gli incontri diciamo prima di un certo livello culturale usiamo questa parola che troppo spesso ci si vergogna a usare la cultura oddio oddio la cultura che schifo no invece anzi è una ricerca la vostra una ricerca di fare qualcosa di interessante e poi comunque ci sono anche dei momenti ludici dei momenti io sono rimasto per la caccia al tesoro caccia al tesoro mi ha colpito c'è un limite di età l'iscrizione da caccia al tesoro non posso iscrivermi c'è un programma che è molto apprezzato durante tutta la festa di spettacoli per bambini per ogni fascia d'età l'altro giorno abbiamo aperto la festa con uno spettacolo di burattini c'erano 300 bambini nel nostro asilo bellissimo per i bambini di 44 anni cosa possiamo trovare? per i bambini di 44 anni ci sono dei bellissimi programmi serali ah ok perfetto e diciamo appunto in questo weekend allora stasera i comici di Zelig stasera avremo Max Pisu e Max Vugogna Max Pisu Steve Vugogna e Magritte Antonelli questa sera personaggi televisivi conosciutissimi perfetto domani sera invece cosa abbiamo di bello? domani sera c'è un bellissimo spettacolo per famiglie e bambini ogni anno lo mettiamo dentro nel programma perché apprezzatissimo lo mettiamo con attenzione il sabato perché così i bambini possono stare fuori fino a tardi non devono andare a scuola il giorno dopo abbiamo il mondo delle principesse show è uno spettacolo veramente bellissimo con tutte la bella e la bestia Anne ed Elsa di Frozen Cenerentola il principe azzurro Jasmine e l'Aladdin la bella addormentata nel bosco quindi ci saranno tantissimi quadri di questi personaggi è un musical in sostanza e domenica sera se non sbaglio invece musica giusto? domenica sera c'è un fantastico concerto di questo super cover band sì è una delle più grandi cover band di Daya Straits loro fanno principalmente teatri e palazzetti siccome avevamo un amico in comune li abbiamo convinti e quindi suoneranno all'aperto ecco perché è importante anche questo non c'è riuscire a sfruttare al meglio le conoscenze degli amici per portarsi le cose migliori anche perché adesso tocchiamo il tasto dolente della cosa tutto questo ha dei costi e che costi che però riuscite tranquillamente l'ho aggiunto io tranquillamente l'ho aggiunto io scusami tranquillamente no che riuscite con il grosso lavoro e dandosi da fare tanto quindi se vuoi anche ringraziare no certo diciamo che l'amministrazione comunale di Cesano Boscone dà un importante contributo che comunque copre mediamente un quarto della festa ok l'altro viene oh grazie nel senso se fosse anche quello assolutamente assolutamente è una cosa fondamentale su quello poi si costruisce tutto il resto diciamo che gli altri tre quarti escono da da tante cose escono per esempio da una lotteria con premi viaggio quest'anno il viaggio in Turchia così via e poi c'è l'importante contributo eh dei dei commerciali dei commercianti per la pubblicità nel programma che trovate anche sul nostro sito ci sono tanti attività commerciali che ci aiutano con la pubblicità e poi ci sono quattro cinque sei importanti sponsor ok che ogni anno sponsorizzano una delle sei serate dei weekend ah ok perfetto abbiamo Viridea abbiamo Denicar questa sera Denicar sponsorizza la serata del del cabaret domani sera c'è un importante studio dentistico Dental 3 di Cesano Boscone nel weekend dopo adesso devi dirli tutti se no poi ci rimangono male nel weekend nel weekend dopo mi spiace Emilio siamo finiti in un cul de sac ma dobbiamo dirli tutti vado a memoria spero di ricordarmi nel weekend dopo nella bellissima adesso ho sulla coscienza una sponsorizzazione che non ti danno più il prossimo anno adesso se ti dimentichi il venerdì il venerdì avremo una serata fantastica della conversione dell'inominato quindi una serata manzoniana con musica letture in cui lo sponsor è un un ristorante il Don Girò sull'Orenteggio poi abbiamo dunque la domenica sera abbiamo il centro commerciale Porte di Milano che presenta l'orchestra quindi tante cose tante cose che riuscite a fare grazie appunto al vostro lavoro grazie all'amministrazione comunale grazie al supporto appunto disposto tutto del territorio la cosa interessante è quella cioè non è che arriva multinazionale o qualcosa che farebbe comodo lo so benissimo e se volete siamo Emilio qui che vi aspetta però è bello appunto questa interazione con le realtà commerciali e economiche del territorio che animano questo mi viene in mente anche Avis che ci teneva a raccontare le esperienze di questi anni di aiuto agli ospedali con le donazioni e quindi ha fatto un investimento anche loro perché prima di ogni spettacolo c'è uno spicci iniziale in cui raccontiamo le realtà che hanno deciso di aiutare la festa perché aiutano la festa bene allora rimane con noi un po' di musica ancora e poi andiamo ancora a raccontare la festa di Cesano Boscone e adesso chissà che avete magari qualche amico con cui andare alla festa o magari una donna per amico Freak 8 e 36 minuti ancora qui a raccontarci la festa patronale della Madonna del Rosario perché questo è il titolo originale il nome originale Emilio Sestagalli è appunto direttore della festa patronale di Cesano Boscone Weekend ricco quello che sta arrivando settimana ancora ricca quella che poi arriverà cosa ci consigli di non perdere so che sono tutti figli tuoi quindi non puoi preferire l'uno all'altro però ad esempio sto weekend non ci sarò non potrò esserci per la caccia al tesoro il prossimo anno faremo una caccia al tesoro per i brizzolati sì ti prego sì sai che una volta c'era TM la faceva tantissimi anni fa per le strade è da fare è da fare io ci sono se avete bisogno di una mano io ci sono prometto qui in diretta che ci sono per organizzare la festa scusa la caccia al tesoro se vuoi prossimo anno per i brizzolati cioè allora partiamo quello che posso consigliare tenersi liberi martedì 17 settembre perché alla sera affronteremo il tema della festa che è parlare col cuore il coraggio di educare parlare col cuore è una frase che abbiamo preso da un discorso di Papa Francesco che richiamava tutti proprio al tornare ad essere veri e quando uno a Milano si diceva parlare col cuore in mano parlare col cuore in mano perché quando uno parla diciamo così col cuore in mano è vero e anche nei rapporti con gli altri è vero ed è capace di accettare gli altri in questa frase mi interessa tantissimo anche la seconda parte il coraggio di educare il coraggio di educare è una frase che tra l'altro è piaciuta moltissimo al nostro sindaco nel sito trovate all'inizio gli articoli di entrée della festa sia del parroco sia del sindaco diciamo il sindaco l'ha definito lato B perché la festa è sempre un titolo e un titolo diciamo così da lato B in cui diceva che appunto l'educazione è soprattutto un atto di amore e di giustizia è il mezzo attraverso cui possiamo costruire una società dove ogni individuo indipendentemente dalla sua origine ha le stesse opportunità di successo quindi ci teniamo anche attraverso questo incontro è quello di martedì 17 con Don Marco Pozza che casualmente al nome del vostro sindaco perfetto infatti quando l'ho chiamato mi fanno ma guarda Emilia è sbagliato sul programma no fanno gli stessi nomi è bellissimo è parroco nel carcere due palazzi di Padova mi è piaciuto molto quando ci siamo sentiti perché gli ho detto ascolta cosa scrivo sulle due righe del programma e lui mi ha mandato questa frase uno straccio di prete al quale Dio si intestardisce ad accreditare simpatia usandogli misericordia e quindi io l'ho incontrato l'anno scorso guardando una registrazione preparandomi all'incontro di Mario Calabresi e c'era quest'uomo dire esplosivo e poco e ho scoperto solo alla fine che era un prete perché l'hanno presentato era in vestito standard e quindi quindi l'abbiamo prenotato e sarà sicuramente una serata veramente toccante intanto al 3317853555 arriva un whatsapp arriva Alberto che dice complimenti agli organizzatori della festa patronale di Sanloboscone per la scelta sempre interessante e numerosi eventi sì perché è quello infatti io dico che insomma di quella frase lì che ho detto il coraggio di educare mi piace tanto la parola educare vabbè che insomma un po' anche del nostro piccolo cerchiamo la mattina di fare qui a Good Morning Milano ma soprattutto l'idea del coraggio perché in quel coraggio c'è anche la responsabilità di questa educazione assolutamente infatti gli eventi che cerchiamo di portare le persone che invitiamo penso a Cottarelli quando ci siamo sentiti lui mi ha detto sì io vengo a partire da quel titolo ma oltre alle mie vicende politiche voglio raccontare del programma che stiamo portando in giro lui si è dimesso dalla carica di senatore ci vuole un motivo per dimettersi ci raccontava perché lui è andato a seguire un programma dell'Università Cattolica di Milano il PESES dove porterà in tutte le scuole superiori i più grandi personaggi diciamo così famosi economici politici mi raccontava che andrà Mario Draghi Montezemolo in tutte le scuole per far incontrare ai ragazzi queste realtà per fargli capire che c'è una possibilità per tutti ed è bello avere delle aspettative quindi un programma molto bello quindi hai fatto le aspettative beh ormai un'idea si è già fatta che aspettative hai però sul finale cioè quale sarà il bilancio di questa festa per il direttore Emilio diciamo che in questo weekend siamo all'inizio e quindi diciamo io dico sempre che il 70% della bellezza è nella preparazione ok sembra incredibile no ma perché poi quello che accade tu diciamo da un certo punto di vista l'hai già vissuto io personalmente è tutto il comitato festa patronale che con me prepara la festa e poi diciamo così c'è la manifestazione di tutto quello che hai lavorato diciamo così da febbraio a settembre e quindi noi ci aspettiamo di tante belle cose in sostanza beh allora l'appuntamento è praticamente per tutti i giorni se passate di lì se passate di lì tanto qualcosa c'è soprattutto nei weekend ok soprattutto appunto nei weekend ricordiamo appunto festa patronale della Madonna del Rosario quindi la festa patronale di Cesano Boscone fino al 22 settembre weekend ricchi di appuntamenti nella settimana date un'occhiata al programma perché comunque c'è sempre qualcosa che vi può dare il sito ricordiamo il sito www festa patronale di Cesano Boscone poi abbiamo Instagram mi ha colpito perché quest'anno abbiamo aperto il canale Instagram in un mese abbiamo avuto più di 6.000 visualizzazioni è visto così di botto così de botto come diceva qualcuno diceva così de botto senza senso invece qui il senso c'è e come davvero grazie mille Emilio complimenti per tutto il lavoro che state facendo e complimenti per questo coraggio che avete di educare mi ha proprio colpito ci proviamo davvero complimenti davvero ricordate appunto che poi comunque qui su Cristal Radio teneremo aggiornati i vari appuntamenti e poi appunto trovate il sito internet se girate dalle parti di Cesano troverete sicuramente il programma praticamente ovunque in questi giorni bar tabaccherie e pizzerie come dice in questi casi ovunque lo trovate quindi studiatevelo perché c'è davvero cioè è da studiare nel senso che potete farvi un bel programma quindicinale su che cosa fare bene grazie mille Emilio grazie a voi dell'invito avanti con un po' di musica e poi torniamo qui con un po' di aggiornamenti sulle ultime notizie e poi per salutarci prima delle nove puoi dare la linea ovviamente ad Abrogio Curti con senti questa a